La Madonna con il lungo cuore è stata dipintata nel 1534-1540 da Francesco Maria Mazzola anche conosciuto come Parmigianino dal nome della sua famiglia di Parma. La forma di lungo e il cuore di Madonna indicano che il lavoro era fatto durante il periodo di manieristica un momento di presentazione pictorial che fu fuori dall'armonia visuale e dell'equilibrio del Rinnozanzo. Mary, accompagnata da angeli, è in fronte. La riuscita, ma ha una espressione mediativa facciale e sembra melancholy in cui già conosce la destina tragica del suo Gesù. Non si tratta di un vestito e sull'occhio sono le pelle e le diade. Il suo vestito è bianca e è così tina che vediamo il suo cuore. Un altro dettaglio. Gesù non è un infanzo nuovo, ma un figlio più grande, quasi abbandonato sui piedi di Mary in una posa che ricorda il Cristo morto di Michelangelo in Pietà nel Vaticano. Anche in questo è l'allusione al sacrificio del Sonio di Dio. Questo è anche ricordato dalla immagine di riflessione del cross sul vaso che l'angelo sull'armonia mantiene un luogo. Di behind la virgina sull'armonia vediamo una colonna. Questo è un simbolo di purità e connessa con il Cantico dei Cantici dove il figlio dice alla britta che il tuo cuore è come una colonna. Il pittamento è ricordato che non finisce a causa della morte dell'artista nel anno 1540. Parmigianino Madonna con un lungo cuore circa il anno 1534-40. Grazie a tutti.